Oddio, mi pareva di sì, guarda, adesso... Ma... Guarda, siamo già in un'ambianza... Dai Tommy! Vai Tommaso, chiudi! Chiudi! Guarda, bravo, bravo! Giulio Bona, tabena numero 434 per Giulio Bona in seconda posizione il De Creazzo con Tommaso Negro la tabena numero 620 per Tommaso Negro la batteria numero 95, categoria G2 in pista in questo momento in terza posizione... Dai Tommy che lo prendi! Di Padova, Nicolo Morello, tabela 971 Dai Tommaso! Dai vai a prenderlo, dai! Bravo! Dai Nicolo! Rossetto Matteazzi